I soldi, tutti quei soldi che avete degli scecchi, sapete dove dovete ficcarveli, dove non batte il sole, è godo, godo, godo perché il Paris Saint Germain è fuori, è fuori dagli ottavi di UEFA Champions League, come godo, come godo, come godo, 2 a 0. Questo Bayern Monaco, tutti pallano, il City, il Real Madrid, il Bayern Monaco fa paura, fanno paura, i giocatori del Bayern Monaco fanno letteralmente paura, questa sera hanno dato l'ennesima dimostrazione che pur non spendendo i miliardi, i milioni che ha speso il Paris Saint Germain, sono arrivati fra le prime otto, cioè sono ai quarti, sono ai quarti. Sono ai quarti, questi arrivano sempre qua, o ai quarti, o in semifinale, poi vanno in finale, quarti, semifinale, semifinale, cioè questi fanno paura, sono un rullo compressore. Lezione di calcio a Paris Saint Germain, bellissima la coreografia, soprattutto dei tifosi del Bayern di Monaco, che riprendono la vecchia coreografia del Paris Saint Germain dove c'è la mano mozzata e c'è scritto i soldi del Qatar, una cosa del genere, qui non arriveranno mai. Spettacolo, voglio spettacolo, e posso dire che godo, 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 voglio godo, perché quando esce il Paris Saint Germain, squadra, squadra, ridicola, perché non puoi pretendere di comprarti chi vuoi tu, va bene, è nessimo fallimento storico per il Paris Saint Germain dopo che la spesa è, tu ti sei comprato un va bene, Messi, Neymar, Fabian Ruiz, Sergio Ram, ti sei comprato il top del top che c'era, in circolazione per fare queste figurelle contro dei ragazzini, contro dei ragazzini, questo è il calcio, questo è il calcio, questi qui ti servono fino a un certo punto, ma poi quando vai nel campo, quando vai nel campo, quando vai su quel prato verde, contano poco, contano questa, contano la testa e contano i piedi e le motivazioni che hanno i giocatori, i giocatori del Paris Saint Germain si devono solo vergognare, vergognatemi, però noi godiamo, perché quando esce il Paris Saint Germain, noi godiamo, perché vince il calcio pulito, vaiù, Bayern Monaco, spettacolare, spettacolo Bayern Monaco, vaiù.